Prigionieri dei contratti è l'imbarazzante situazione che devono sbrogliare quanto prima Enzo De Vita e Massimiliano Taccone per liberare dall'impasse una serie di trattative. I legami contrattuali con Ciccio Tavano, Angelo Rea e Alessandro Sbaffo pesano come macigni sull'economia gestionale e rischiano di condizionare il mercato in entrata. Come da prassi consolidata, infatti, l'input dirigenziale è quello di far corrispondere un acquisto ad ogni eccessione, cosa non semplice, soprattutto per Tavano e Rea, che ormai a fine carriera, prima di alzare le tende chiedono una sostanziosa buona uscita e un approdo alternativo per la stagione ormai alle porte. Più semplice, malgrado sia blindato da un biennale, appare l'operazione di sistemare altrove Alessandro Sbaffo, seguito con insistenza dal Parma. Nel complesso, dalla cessione dei tre calciatori che non rientrano più nei piani della dirigenza, l'Avellino risparmierebbe circa mezzo milione di euro, una cifra cospicua che consentirebbe di mettere le mani sull'attaccante e il difensore di valore individuati da tempo e messi in cima alla lista delle preferenze da Mimmo Toscano. Si tratta dell'esterno Filippo Falco e del roccioso Paul Garcia-Atena. Il primo deciderà la prossima settimana se accettare o meno la proposta del club bianco-verde che inlizza con Benevento e Cesena il secondo. Sebbene sia stato richiesto anche dal Crutone, attende che l'Avellino faccia il passo decisivo con la Juventus per il suo acquisto, cosa che De Vito e Taccone difficilmente faranno. Se non sistemeranno prima Tavano e Rea, Marco Sommella, agente dell'ex bomber dell'Empoli, sta continuando a rinviare l'appuntamento con la società irpina. Il motivo è da ricercarsi nello stallo societario del Pisa, unica squadra di Serie B, ad aver chiesto informazioni su Tavano. Dovesse trovare un'intesa con la compagine toscana, il colloquio con l'Avellino per la recessione sarebbe in discesa. Altrettanto complicato sarà convincere Rea a rinunciare all'ultimo anno di contratto. Il difensore di Pomigliano è in vacanza ed ha già fatto sapere a De Vito che intende restare per riscattare l'annata grigia vissuta con Tesserra, tecnico con il quale non c'è mai stato grande feeling. Casertane e Paganese hanno fatto dei timidi sondaggi col suo agente, ma le parti appaiono davvero lontane. Di conseguenza l'ipotesi che possa partire per il ritiro di Sturno non va affatto scartata. Per mettere le mani su Adrian Stoian, altro calciatore richiesto da Toscano, invece l'Avellino ha un'altra carta da giocare che risponde al nome di Davide Biraschi. Il difensore, che ieri mattina è stato in città, piace da sempre al club calabrese, che a parziale contropartita del romeno potrebbe chiedere un'opzione sull'ex Grosseto o addirittura acquistarlo lasciandolo per un altro anno in Irpinia. Ipotesi intorno alla quale la prossima settimana potrebbero lavorare le due società. Nel frattempo sono stati intensificati i contratti col Torino per il portiere Andrea Zaccagno. L'estremo difensore Granata ha scavalcato Yonut Radu, per il quale l'Inter non appare propensa a dare il semaforo verde alla cessione. Si è complicata, infine, anche la pista che porta a Maschin. Il centrocampista di passaporto spagnolo, leader della Roma Primavera Campione d'Italia, è stato richiesto espressamente dal crotone del neotecnico Davide Nicola.